Approvato il bilancio di previsione 2022-2024 Festa della liberazione, gli eventi proseguono fino al 15 maggio Ben trovati in primo piano l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 Conti in ordine e assunzioni malgrado la crisi Opposizione critica su tagli e metodo Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con 27 voti a favore e 15 contrari Il bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 di DL181 Dopo una maratona d'aula e con l'esame di oltre 1.400 emendamenti Il documento finanziario pareggia a 19 miliardi, di cui 9 di spese sanitarie Tra i vari capitoli sono previsti ulteriori 22 milioni di bonus alle imprese 20 milioni per l'edilizia popolare, 100 milioni per l'agricoltura 42 milioni per la cultura e 15 milioni per la promozione turistica Tra i settori a cui sono state destinate risorse sono previsti 361 milioni per lavoro e formazione 85 milioni per istruzione e diritto allo studio 181 milioni per le politiche sociali 187 milioni per tutela del territorio e ambiente In ambito sanitario 12 milioni sono destinati al Fondo regionale per la disabilità 9,5 per l'assistenza dei pazienti ex psichiatrici Per gli extra-LEA sono previsti 45 milioni Per sviluppo economico e competitività sono previsti 189 milioni Per trasporto e diritto alla mobilità 800 milioni Per politiche giovanili, sport e tempo libero 25 milioni L'assessore al bilancio ha ringraziato i suoi uffici e anche il presidente del Consiglio regionale che ha garantito i lavori d'aula Un ringraziamento è andato all'azione responsabile dell'opposizione che ha avanzato legittimamente le sue istanze che hanno trovato però una maggioranza coesa e compatta Durante le dichiarazioni di voto il Partito Democratico ha affermato che questo pare il peggior bilancio portato in approvazione dalla Giunta nei suoi tre anni di legislatura il cui fil rouge è costituito dalla parola tagli Per il capogruppo Lega invece si tratta di un bilancio serio di equilibrio previste oltre mille assunzioni in sanità tutte con fondi regionali senza aiuto dello Stato Il Movimento 5 Stelle ha parlato di un bilancio lacrime e sangue per i lavoratori della sanità che non saranno assunti o per gli studenti universitari che andranno in altre regioni a studiare Il Movimento 4 Ottobre ha criticato il ritardo nel portare l'atto in commissione in aula poi il tentativo di accelerare per non sforare troppo i tempi Forza Italia ha ricordato che oggi è impensabile fare nuovi debiti Con Finpiemonte a inizio mandato si è dato vita al Riparti Piemonte una scelta coraggiosa per aiutare imprese in crisi Si può oggi sottoscrivere il nuovo contratto decennale con le ferrovie con 150 milioni stanziati e una trentina di treni nuovi per il servizio metropolitano e non solo Per Fratelli d'Italia si garantisce un bilancio che presidia i settori strategici malgrado le enormi difficoltà causate dalla pandemia Approvati anche 15 atti di indirizzo collegati al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dei 48 presentati inizialmente, alcuni dei quali ritirati prima del voto Gli ordini del giorno a cui l'aula ha dato il via libera, firma moderati, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle riguardano diversi ambiti, sanità e welfare, istruzione e formazione professionale, ambiente, attività produttive e cultura E' visitabile fino a domenica 1 maggio all'ingotto di Torino Automoto Retro la cui presentazione si è tenuta a Palazzo Lascari Gioielli del passato, grandi club, bolli di da gara provenienti da tutta Europa case automobilistiche, grandi nomi del motorsport internazionale sono protagonisti di Automoto Retro e Automoto Racing che animano il Lingotto Fiere e l'Oval di Torino fino a domenica 1 maggio con il patrocinio e il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte Per l'occasione sono state esposte nel cortile di Palazzo Lascaris vetture storiche e iconiche tra queste la Lancia Delta Integrale, detentrice di 5 titoli mondiali e la Fiat 2800 Torpedo Reale, protagonista della Coppa Cobram nella nota pellicola Fantozzi contro tutti Sono molto contento perché nonostante le altre fiere in Europa abbiano avuto delle difficoltà di spazi noi siamo riusciti a mantenere tutti gli spazi sia interni sia esterni Un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati dei veicoli d'epoca la cui presentazione si è tenuta a Palazzo Lascaris che segna la ripartenza tanto attesa per l'intero comparto fieristico legato al mondo dell'auto dopo la pausa di un anno a causa della pandemia Sono 1200 espositori nelle ultime edizioni avevamo superato i 70.000 visitatori nei 4 giorni Il giro d'affari non so dire le quantità numericamente però è sempre stato notevole Si è tornati a festeggiare in presenza l'anniversario della festa di liberazione fino al 15 maggio il Polo del Novecento e alcuni luoghi cittadini diventano il punto di riferimento per ricordare e condividere le storie, gli insegnamenti e i valori del 25 aprile Le iniziative sono sostenute dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte Tra gli eventi di spicco il concerto Actung Banditen riarrangiamento in chiave rock di alcuni canti della Resistenza Grazie a tutti La Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte che ci ha permesso con il suo sostegno di realizzare le diverse iniziative che comprendono anche delle mostre, le viste di guidata al Museo Diffuso della Resistenza e una serie di incontri ed eventi Oggi in particolare ospitiamo un concerto molto atteso degli Actung Banditen Il nostro scopo è quello di riproporre la memoria dei canti partigiani attraverso una rieppropriazione proprio della musica con delle forme anche diverse Torna dal 21 maggio al 5 giugno Candelo in Fiore Dal 21 maggio al 5 giugno il ricetto medievale di Candelo in provincia di Biella tornerà a fiorire anche grazie alla partecipazione del Consiglio regionale del Piemonte La diciottesima edizione di Candelo in Fiore quest'anno sarà all'insegna della ripartenza dopo un anno di stop dovuto alla pandemia Invitiamo i visitatori a vedere il borgo del ricetto di Candelo che non ha bisogno di grosse presentazioni di per sé perché è uno dei più ben mantenuti del 1400 andare in avanti però lo facciamo diventare un giardino fiorito con la collaborazione di tutte le associazioni florovivaistiche territoriali non solo, creeremo circa 20-22 aiuole fiorite Oltre alla tradizionale esposizione di giardini fioriti all'interno delle stradine dell'antico borgo medievale che ogni anno attira 30.000 visitatori dall'Italia e dall'estero saranno moltissime le iniziative collaterali che animeranno le serate di Candelo Dall'arte della Fondazione Pistoletto a Slow Food dall'economia circolare a Franco Collè pluri vincitore di Ultratrail al meteorologo Luca Mercalli fino a Stefano Mancuso, botanico e accademico di Firenze per concludere con l'alpinista Simone Moro appena tornato dalle cime del Nepal Quest'anno vi portiamo nei nostri territori montani perché l'ONU quest'anno ha voluto dedicare l'anno alla salvaguardia delle zone montane noi abbiamo preso ispirazione da questo perché Biella è stata città alpina l'anno scorso tramite tutte le nostre piante, le nostre fioriture tutti i prodotti dei nostri floroviveisti vi porteremo alla scoperta dei territori montani Tutte le informazioni sulla manifestazione e le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito candeloeventi.it Per questa edizione è tutto prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti